Cori e fischi contro Monsignor Giuseppe Giudice, originario di Sala Consiline e Vescovo della Diocesi di Nocera Sarno in occasione della celebrazione della Madonna delle Galline Appagani. Dopo le polemiche per la decisione della diocesi di vietare processioni e riti legati alle festività pasquali e i manifesti funebri indirizzati alla sua persona, Monsignor Giudice nel corso della celebrazione è stato raggiunto ancora da contestazioni, anche se da una piccola parte delle tante persone presenti. Le celebrazioni infatti hanno raccolto centinaia di persone e tutto è andato nel migliore dei modi, a parte qualche piccolo episodio, come ha sottolineato anche il sindaco di Pagani, Raffaele Maria De Prisco. Una piazza ordinata, al netto di qualche piccola cosa, però voglio dire che mi è piaciuto l'ordine che c'è stato, la messa è stata ascoltata da tutti quanti e soprattutto poi l'invito alla processione per l'anno prossimo.